lotta al grillo talpa lotta al grillo gallina mimma l'ottima soluzione per il grillo talpa terra d'abruzzo la soluzione al grillo talpa eccola la gallina mimma la gallina mimma vecchia per l'acchiata eccola qua saluta terra d'abruzzo saluta saluta mimma vai col grillo talpa ma se mangia le piantine mimma dai mimma attacca attacca il grillo talpa mimma vai e dai e salute follower mimma salute follower mimma eccolo grillo talpa vai e attacca attacca eccolo 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 il grillo talpa vai vai e dai e grande mimma chiappa grillo talpa che fa dei giri di schiena mimma dai e mimma dai e forte eccolo eccolo dai e mimma il grillo beccato ecco ecco la chiappa grillo tappa vai e guardate che velocità guardate che velocità mimma saluta i follower la migliore la migliore soluzione per la lotta al grillo talpa saluta i follower mimma aremcia eccolo qua eccola qua eccola qua la cosa ne stanno qua gli servanti d betapa cosa vanno le gallerie guarda 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 la ecco loro la ecco l'ha chiappola chi happa afferrala afferrala daje daje mimma eccolo 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 qua eccolo qua eccolo qua daje daje forte mimma daje la gallina mimma chiappo grillo d'alpa chiappolo chiappolo